Ciao, siamo in live, buonasera Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questa live di Sashado Vi ricordiamo che la live è sponsorizzata da Sashado Mi raccomando Ragazzi, come sempre vi ricordo di non mettere in follo a questo canale, ma mettere al mio canale Mirkus87 Quindi andate a mandare benissimo Mirkus87 a casa Mi raccomando ragazzi Eh, voilà Ah, figa questa bandierina, dove l'hai... Dove l'hai fatta? Che bandierina? Che c'hai sulla macchia Ah, l'ho presa da cosa dentro il gioco Ah, ma con dei riscattabili, no? No, sono gratuiti, ce ne sono tutti i paesi del mondo Dove sta, scusate, nel garage non lo trovo Devi andare Ah, bandiera dei paesi, è posto, ho trovato, scusate Ah, che fatta, ce l'ha fatta Scusate Ricordiamo che Sashado ha problemi Ah, eccola Bella Mi piace Mettila tu, eh? Eh sì, è già messa Andiamo solo a aspettare i gunner ragazzi Eh, se no Non possiamo partire Eh beh, soltanto ce ne facciamo una nuova Eh, per forza Dovresti Usciamo da lei Lo rifacciamo piuttosto Aspetta, vediamo Scusate ragazzi per l'inconvenienza Stiamo risolvendo il problema subito Ecco Le visualizzazioni se ne sono andati Ah Eh no, non so Niente Ci sono, ci sono Myron Che fammo? Possiamo cacciarlo in qualche maniera? No Se no usciamo O uscire dalla Faccio un attimo un po' di allenamento Mentre aspetto, va Eh, ma per cosa facciamo Nesta allenamento Faccio Faccio Ecco Intanto facciamoci un po' di allenamento Perché No Ecco 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 E' già fatta questa cosa, perchè mi fa prendere Black Spade, ti l'ho già fatta, mattinaccia. Ecco Gunner, eccolo! Andami in live, Gunner! Buonasera a tutti! Abbiamo già due spettatori che vogliono gol! Scusate, ma sono un po' di allenatori! Eh? Sto facendo un po' di allenamento, ma... Eh, ma anch'io ha la stessa cosa! Sto già in partita? No, allenamento! Sto facendo allenamento, ma non mi riesce! Andiamo, andiamo! Andiamo, allora! Facciamo una partita, magari, in locale! No, no! Perché no? Quindi no! Nein! Piuttosto facciamoci qualche partita così... Che cazzo fai a saltare più in alto di così? Vieni, Mirkoz! Io sono uscito da allenamento! Eh, non va! Lo smalto! Vai, ci sono! Eccolo! Andiamo! Facciamo casu a male, va! Sì, sì! Sì, fai qualcuno! Dopo andremo sulle combe di via! La facciamo? Ecco, andiamo entrati, ragazzi! Ragazzi, siamo tornati live, eh! Sì, c'è sascia, c'è ganna! Cos'era? Le buschiamo, eh! Le buschiamo di brutto, eh! Facci tu, eh! Eh, mannaggia, ho salvato... ...do che potevo! No? No! no 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 eccolo vale perfetto cominciamo ben molto a posto cos'è la festa? ahia da l'altra parte scusate scusate no scusate scusate un'altra parte faccio autogol no guarda la miseria c'è nessuno ci ha provato a saltare ma io sto ancora imparando con i tasti nuovi perché i tasti vecchi ne piacciono? c'è un po' di difficoltà finchè no no da tu arrivi ma i tasti vecchi non mi ci trovavo semplicemente ma fa la tastiera? no 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 provo lo joystick ed xbox no 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 questo era un po' un autogol questo è stato un autogol anche con lui stiamo giocando un po' di merda assolutamente è una casuale questo è un riscaldamento non è importante dovremmo vincere comunque ora devo scaldare i copertuni all'altra parte per favore e gli sai che è un bel passaggio no si sono stati in contemporanea ragazzi che cazzo sempre plasma nooo porca non sono riuscito a prenderlo balcro no ma vado a drabarmi per favore lo sto provando aaaaaaah no vedi che manco ogni volta vai scusami canno nelle ientras no no sembra che cazzo hai fatto cazzo che hai fatto cazzo che è orato dentro allora è un po' di leggerla però vediamo è un po' di leggerla ora è un po' di leggerla che è un po' di leggerla non ci sono arrivati e vabbè niente e che cazzo è eccolo esplosione oh passe cazzo eh chi ama me la cazzo parola 4 5 4 3 2 giusto per scaldare un pochettino i copertoni ragazzi ricordiamo di non lasciare il follow assolutamente sul canale di sash lasciatelo sul mio e del sub vi ricordo che sarà regalata una coppia di assassin's creed odyssey ultimate edition prenotatevi per le estrazioni finali preorder ragazzi è tutto in preorder uno principale è stato un po' riscaldamento un po' così così ragazzi prenotatevi per le estrazioni finali di assassin's creed odyssey ultimate edition insultateci sul canale di mirkus e mio a te ti posso insultare? ma no perchè io sono amico ragazzi no no insultate anche mirkus così vi regala pure il gioco ragazzi per notarvi una copia gratuita di assassin's creed odyssey ultimate edition vi ricordo di iscrivervi al canale e iscriverci sul canale e partecipare all'estrazione finale ma cos'è una competitiva? no eh vabbè no 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 non è una competitiva ma porca di me che cazzo pesce cazzo cazzo roma No, un po', vabbè, grande, non hai regalarti, eh? Tembo di spicciuto. Eh? Maronna. Maronna, qua. Aia, 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 aia! Spangu! Beh, qua ci ammazza qua. C'è Amazon? Amazon Prime, ragazzi, mi raccomando. Mia. Vada, vada. No. Madonna, come sei arrivato di quel poder. Eh, sì, ho pensato che almeno riuscissi a... Non da quella parte. Eh, stavano arrivando gli altri che hanno dovuto farla... ... 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 No, no, perchè? Dai, me l'avete spostato, stavo arrivando da me, l'avrei fatto due, l'ho fatta, scusatemi. Vabbè come niente, come sembra niente, dai Gunnar, Gunnar, t'ho messo al centro, cosa Fossижata, Gunnar! Hr.ia, Some s'hovoce看 de le Gunnar C'è ? Cosa ho fatto, scusate? La cassa l'hai buttata e l'hai buttata indietro Ma io? Sì Non l'hai buttata, non l'ho toccata L'hai toccata prima Ti hanno risposto su whatsapp Eh, ma adesso non lo guardo, guarda È importante Lasciate rispondere Allora, ho messa lì, non c'era nessuno No La cissura No È il corso, è il corso È arrivato lungo, è arrivato lungo Scusatemi ragazzi Ci ho provato ma l'ho saltato un po' troppo Andarini lungo ragazzi è così Guarda, vedi? Ma che saltai troppo tardi, ragazzi Guarda Vai Gunner, è tuo No Qua Che salto Gunner grande Devo riprendersi un po' la mano perché Dai 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 ragazzi è lì Sono lì Sono lì ragazzi No Bella lì Quella lì Ce l'ho spostata, viste che bella Sul muro cos'è Cazzo Ho visto che bella Pro Non è arrivato Vieni Sasha, la passi sempre indietro Vabbè perché è sempre indietro ragazzi La passo di lì, stavo uscendo indietro Io la passo di più Come dove era uscita Eh ma quella è indietro Vabbè ma Vai Gunner Vai Eh, la madonna E tutti ci siamo buttati Ecco io non ce l'ho appresa Mi ha tirato male Mi spiaghi Ecco mi diavando Questa raguola L'abbiamo perso per Claro Abbiamo perso per un Sasha Per un Mirkuz Ho sasciato Eh un po' Mirkuz Facciamo rivincito Meno principale Meno principale Eh 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 No Gunner vuole farsi malo Il Dragon's Gunner ci butta da una competitiva Che Ci faccia male davvero C'è un messaggio per te comunque E adesso lo guardo Madonna Ah Ah Eccola tia La faccio venire? Beh lo devi chiedere a me No beh chiedo se ti va a piacere Unito comando io Gunner può venire Gunner che stai facendo? Eh Gunner può venire un ragazzino C'è un Ti stai sputtanando da solo in live Stai stagliando No no Stai facendo nomi Stai dicendo cose No 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 Eh sì sì L'hai già fatta No 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 Ma nulla guarda Ti consiglio di cancellarla perché La lascio così guarda Non Senza 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 censura Eh dai male Eh Massaggio Ah Massaggio Eh Gunner può venire un nostro Vecchio fans Porca troia Gunner No Sascha Vai 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 Ho finito il turbo Ho finito il turbo Dovevo andare A prendere la palla Eh Cosa che tra parte Maronna maronna Gass 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 Nida Nail Scusami Come se Scusami guarda che bello guarda no ho sbagliato Gunnar è tua come sempre è tua vaffanculo eh manchi io ci ho provato non di la porca forte di lui l'ho allontanato a leggermente Gunnar finale grande non ho segnato io ma non risponde il nostro amico lo sappiamo ma non va niente così è stata bella comunque ma dovrebbe cercare qui a rocket non lo so era un punto di domanda dall'altra parte per favore si lo so cara scusami non ho sbagliato no guarda se non è sempre lui che sbaglia no quando le palle rimbalzano dentro l'area di rigore è molto pericoloso e no l'ho sbagliato io perché l'hanno mandato di là io non volevo mandarla mia 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 vai vai tutta tua mi ergo no vai caz stop no 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 ma ronda ho appena toccato eh io ma perchè sempre di qua? non la faccio apposta gunnarly presa niente troppo pazzo che liga andare dietro di te? aaaaaaah no niente diciò vai Mirko aaaaaah niente mi ha scatato a porta a porta a porta Stavo arrendo a sapere il mio figlio turbo Eh io ho fatto quello che ho potuto E anche io scusate ragazzi Non dico il mio modello Ma vabbè te lascia prendere Via ragazzi Si però si parte subito Eh sono partito subito Dai 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 Nooo Va No ma questa è una sping No ma questa è una sping Stavo migliorando Beh, piano piano Ma questo è il secondo giorno Ma per me è il secondo Questa è la principale o la rivincita? No no è competitivo mi sembra per cui Lasciamo così? Si non puoi farla rivincita Ah trovo una nuova partita Sì Ma dovrì anche se provi Ti dice che lì Sono il leader del Del parco insomma può cercare Ok 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 Dov'è? E' una Una Tua? Prego Dobbiamo andare non il 2 su la stessa palla ragazzi magari se le chiamiamo magari anche vero Mirko, vai vai Mirko vai Mirko no no è una turbo anch'io no non ci posso credere non ci posso credere guarda vai ragazzi Mirko guarda 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 no no magari lo faccio al test 4 non ciò è augusto praticamente stiamo facendo noi 0-3 vado io ragazzi che ti da se c'è qualcuno di l'altro no maronna si alza turbo si alza turbo ciao ma fancù qui c'è qui dai cazzo quella sarebbe entrata non me la spostava No, ecco, questa è come farsi da solo un po', no, vabbè. Ci sta massacrando? Hi Ben! Ecco, infatti già ci saluta il nostro caro... Ma chi? Eh, uno nuovo... Ah, qua. Come sei? Grande Gunnarte! Nice! È mio amico! E Mirko è mio amico! Oh, vaffangala... Questa roba è bella. Eh, è arrivato lungo. Troppo... No, 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 no! Museri! è arrivato io qui è questa faccenda cagata no ma perché? no 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 guarda che passaggio ragazzi ci manca poco oh finalmente un gol aspettate un attimo vai Mirkus vai ci sono ti hanno risposto adesso guardo dopo l'importante è finita ci vado a secondi ci vado a secondi facciamo altri direi guarda giù no wow wow basta il vacanza questo corre eh te l'ho messa libero no 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 porca mi sono guarda giù la gunner la gunner non ci credo hanno fatto pure saltare in line guarda che vizio guarda che cosa nooo ragazzi ragazzi l'ho parata l'ho parata l'ultima parata della partita grande nice Mirkus grande grande a tutti gg 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 ragazzi vabbè abbiamo fatto che cazzo gg mi hanno pure declassato hanno risposto abbiamo visto 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 quando gioco con voi mi declassano eh quello che dico pure io da quando abbiamo fatto giocare pure a Sasha mi sono andato a declassare eh bull drop ragazzi se quello che succede a giocare col Sasha ma io ho pure le risposte caro mia? vai tu mia mia ok no non ce la porti vai vai no vai adesso la no ci sono queste cappelle e lì ragazzi sì ma che cazzo fai ma scherzo ma fa un tiro lungo no ma non sono riuscito cioè fai così cazzo che porca troia sarebbe entrata guarda te lo giuro entrava e beh ma sono andati anche gli altri sbagiocchiati sbagiocchiati anche gli altri sbagiocchiati no non già arrivo non già arrivo ma che cazzo fai ma che cazzo fai madonna ci credo vai tirata di nuova eccolo madonna madonna cosa devo leggere vai che ci facciamo un culo grosso come una cabanna pure di culo ci pianti di merda vado io vadi vadi no no scusate no scusate ma l'abbiamo giocato prima contro il big head aiaiaia c'era quasi vai gunner tua se me la lasciavi ti giuro entrava ero proprio dritto no eh ragazzi dai ma ci eravamo quasi dai ma che cazzo vabbè ma eravamo quasi ma che problemi dimmi molti no 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 non ci credo come cazzo fai a lisciare la sascia madonna no seriamente ci ho fatti un paio d'occhiali madonna cazzo ma era dritto era dritto era dritto davanti no che merda no a me mi fate passare la cosa ehmico scusate no ma c'è ma te lo no no non l'ho fatta apposta no ti faccio bannare anche da dici vai ah no 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 grande 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 meno male meno male no 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 guardalo 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 dai non ci credo dai non ci credo dai non ci credo allora non devi colpire la palla se stai correndo verso la direzione della porta eh ho fatto una cazzata scusate ma ti rendi conto che ogni volta dici sempre così eh eh che cazzo fa non colpire la palla se stai correndo verso la direzione della porta tu c'hai dei problemi no ma lo fai apposta ascolta secondo me ci stai facendo per il culo tu lo fai apposta perché ridi ridi come un cretino tu per me lo fai apposta ascolta non è vero non è vero no tu per me lo stai facendo no 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 lo faccio apposta che faccio te cazzate lo giuro ahahah hai detto che ha camer che che ride eh scusa ma ganar iter per non chiara non incassarsi da boh però non è che lo faccio apposta è mio no vabbe stavolta non ho fatto nulla eh è proprio un errore si deve prendere per un vivo? chi ha detto? ormai si scusate grande ma che grande hanno fatto loro ma vedi che ha autogol? io ho fatto il primo top e basta ma hanno fatto autogol guarda ma hanno fatto perchè bene vedi? arriva quell'altro PEM un possibile tuo cugino? possibile ok vai no che miseria rinzenza maronna poi guarda ma fai un cazzo di tiro invece di fare ma non c'avevo, non c'ho nitro ma non serve la nitro per fare un cazzo di tiro basta che schiacci il salto per tirare la palla la nitro ti serve solo per arti la spinta ma per far saltare la palla non hai bisogno ma non colpirla quella direzione oh cosa ci vuole per far così? non c'è bisogno della nitro no non c'è riguarda passato per niente no non c'è riguarda passato per niente no no madonna boh ci possono ci possono credere allora devo mettere Sash in attacco no metto in panchina proprio no deve stare dentro l'area degli avversari non si deve muovere eh ma io non so giocare bene l'ho detto ragazzi no no se vuoi giocare mi viene da male proprio no ma tu ci prendi per il culo ma non è vero Mirko si no tu stai prendendo per il culo perchè ridi come uno stro tu stai prendendo per il culo ma non è vero caro scusa eh è inutile che ti muti per ridere ma è il primo giorno ci muta hai capito? ci muta e ci fa la risata poi mi... non neanche ho la voce stro... cazzo là dai 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 tira quarta 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 c'è così il momento eh voli Volevi? Sta cazzo di far falla dove c'è qui però La ronda Ma buttate via sta palla Ma chi ha detto? Aspetta stavo pensando che eravamo gli arancioni per un momento Vabbè pure lui umano Amico di Sasha Non so può essere Dipende tutto da Gandara Madonna Sasha ma tirala Non portarla spasso Non è un cane madonna Quando ci sei vicino tira Schiaccia il tasto del salto Non devi averla nidro Non ci ho provato Mirko ma non mi fa nulla Ma come non mi fa nulla? Ma come non mi fa nulla? Ma al tasto del salto Scusi mia guarda Non mi fa un salto Salta Al tasto del salto Filippone Guardo le cappelle Che fatte dal di qua Meno male che c'è Gang Ciao Lollo Ciao caro Se vuoi venire insultato Sascha Ti ricordiamo che Il migliore insulto vincerà una copia Gratuita di Assassin's Creed Odyssey Ultimamente Cos'è questa roba qui Cos'è Non sa dire pure tu Gannarte Dai allontanata Sarà anche a fare pure una vabra Dai lì ragazzi No no Non dovevo muovermi dalla porta Lo sapevo Sto scendendo la nuova Ma siete amici? Sì perché scusa Perché è inutile che ti muti per ridere Porca troia Che muti il microfono per partire Arrivata la faccia mia Oddio Guarda guarda qua Allora lo fai apposta Perché è sto venendo? Sentilo C'ha la voce strazzata Canna Attesemente Parando 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 Stacca musica Vai Grande mio Puzzo Manco si è saltato in aria Fanculo Devo fare Devo pure sacrificare Non ci costa Non ci costa Come godo Come godo Noi l'abbiamo messo al sicuro Il risultato E ci resta Chi è? Mia 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 Tua? Vai Presa Lo stesso l'ho presa io Aspetti Zashi Auguri Ha detto Mirko Allora ha detto Lasciamo andare a Mirko Mi prendi per il culo? No E' andata tu Ti ho lasciato andare Ah? No No Cantata Ah 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 Vittoria Ma non per merito tuo E' per me Guarda Scaldapanchine Vedi c'è scritto che sei scaldapanchine Ah 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 ah? Ah ce il tuo è l'abbara Lei mi ha racantinato Guarda su Ma perchè Gandalf Hai messo al sicuro il risultato No Ha fatto bene il Gandalf Questo ci muta Per il Rider Ci muta Ma chi si muta Scusa Eh Ma rosa, avevo 10 e mezzo Ma figurti, Mirko Che la prende? Mirkus Mirkus, vai tu No, 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 no Ma ronda, ma ronda Eh, questo si fa bene La pena allontanare Non colpirla No, no, no Ho frenato subito Allora, vai apposta La giro fuori, era lì vicino, scusami No, però stai per far entrare No, no Sì, sì Vabbè Era lì vicino alla porta L'ho fatto a posto Tirare da per te così Faceva il sbalzo No, scusami Sbalzo? Sbalzo? Sì, sbalzo Sì, sbalzo Va bene Vai, Gunner, è tua Eh, mi tamponi sempre Ma voglio compilare il cibo No Che? Gunner, ti sto facendo delle parate Che porco due Eh, questo non ci serve In questo momento Sottissima, forza Sì, questa non l'avevo ancora vista Eh Questa non l'avevo ancora vista Questa era lì che sta provando a fare sta roba In caso Ma quanto il turbo ha? Ma no, ti basta L'avevo appena preso Via Ma era dal inizio che voleva farlo Sì, sì, sì Ho provato di continuo Guarda Ho, l'avevo appena Ho, l'avevo appena Guarda Guarda Quindi per ennesima volta Anche qui Sono tutti sbilanciati Per cercare il partito Come al solito Non c'è un cassa di gioco Che fa Che seleziona In modo appropriato Eh, sicuramente fa una ricerca Così A caso No, in competitiva no Non c'è nessuna È in data era anche di colore Lì che c'è delle Delle medagliette Che non c'è un cazzo 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 ecco Mamma mia, io ho sciatto. Sarà anche forte, ma c'è una mesh di tempo prima per farlo entrare. Siamo al suo botto per farci fare il primo board. Siamo al suo botto per farlo. Siamo al suo botto per farlo entrare. Ti apre, Mirko, si prendi tu? Mia. La palla, che ti è vicino. Mia, mia. Sì. Chi è di là, ti dici? Eh, c'è ancora il tizio di prima, ma... Ma chi è? Ma c'è mica il tizio di prima. Non lo vedi, ti sei di prima. No, no. No, no. Vado. No, no. No, no. 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 Non la butto via io, eh? Dai, oh, l'ho allontanata Non ci credo Non so come l'ho fatto Eh, di culo, mintia, di culo Sì? La ronda? La ronda è male ogni tanto No Ok Come no? Non è così che si ragiona Eh, vabbè, ma ogni tanto, scusa Cosa cambia Ma allora lo fai a po'? No, lo stavo buttando, Mirko, scusa, mi sta arrivando di là L'ho buttato in una maniera che può Ma buttala curvando Eh, cioè, ci provo, ma se riesco, riesco Se non ci riesco, non è che posso Guarda, guarda, così si gioca Hai visto? Cazzo Non so, è secondo me che gioca, però Figa Ah, gli atti Eh, lo so, ma non è che devo fare tutto io, però Gunner del merda Ormai si è sentato come Sasha Ecco, ragazzi, mi raccomando Lasciate un ban per Mirko's Lasciate un calcio nei dentro Vado, eh, ragazzi, mia Vado, ragazzi, mia Vado, ragazzi, mia Eh, scusa L'ho colpita No, tu ne devi andare, proprio Ti devo uscire da qui Vado, ragazzi, mia Autogol Vado, ragazzi, mia Vado, ragazzi, mia La Gunner Ah, niente No, ah Scusate No, ma perché? No, ecco Non riesco a capire perché faccio così Eh, noi invece l'abbiamo già capito Sì Grande, grande Grande Perfetto Mia Porca puttana me l'ha parata Hai visto, Gunner? Sì Ha rimasto bene Quello andava in porta Ma perché porti la palla qua? Sì Sì Grazie 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 Non lo vedi? No Grande Questo è come prima È come prima Grazie Grazie a tutte le mie fans femmine Te l'hanno sostenuto Stai esagerando No scusa Ti hanno sostenuto Sì ma Hai già esagerato prima Siete dei coglioni Siete dei coglioni Cazzo dovevo fare ormai era già dentro Palla di sgraziati Guarda era già dentro Guarda Nooo Eccoli Ah Eccoli Qua Guarda 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 C'è anche Un cecchino va vaffanculo è un cecchino ciecato ci vede male da quell'occhio taccidua taccidua aspettiamo un'altra eh ragazzi ragazzi eh muti muti io quando sono sul lato ok ma che sono sul lato ti chiedo non Grazie a tutti Nooo Questo rage quito No io rage quito davvero Un po' va bene Cioè io potrei fare altro Non è che l'ho fatto apposta io No si vabbè No vabbè ma scusami Non sbagliate Cioè non è che l'ho fatto apposta a farlo Scusami Capito ma come fai a sbagliare di continuo Non capisco Manco io Guarda ho perso anche un follower per colpa tua Dai Beh ma ho rimediato dai Ho perso il follower Vado io Vai Ecco adesso che stai rivelando a farla come si fai a bloccarla? Non la salta per bloccarla e niente Non la tocco In quel caso dovresti essere sicuro di andarci davanti Eh io ci provo Ci arrivo delle volte Non è che col tocco Ecco Non è che colpo Grazie a tutti. 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 No, ma tu mi stai trollando, poi ti muti, ridi, ridi, non sto ridendo con la voce tutta trozzata. Mi fai ridere, 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 cosa c'è dopo, cosa c'è dopo, cioè prima del bronzo, che cazzo c'è il rame, la medaglia di rame. No, no, non c'èiffe, mi fai ridere tutte tête. No, 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 ancora più sotto, po' no, proprio non classificati, già un insulto a essere bronzo. Come cazzo fai a essere bronzo duro, porco demonio? Come cazzo fai? le fatevi dalle palle che è mia questa sasci che vado a stiletto posso andare in panchina sasci eh se volete come non ho turbo ma non hai visto che entrava non ho turbo stava andando in porta la palla non c'era nessuno non ho turbo ma non lo vedi che entra beh volevo stare di vicino no scusa non ho turbo guarda per fortuna stasera c'ho la cam spenta se no sai le meme che verrebbero ormai c'ho la schiuma alla bocca da quando mi stai facendo incatturare addirittura no ma tu mi prendi per il culo ma no amico no no tu mi stai prendendo senti si muta si muta f*** mi muto ragazzi vi ricordo che se volete una copia gratuita di assos grid origins e ultime edition dovete fare basta che insultate sasha black mesa sul canale di twitch levategli il follow mettetelo al mio mettete il sub no porca si no no ma mamma mia tacito no guarda mi rifiuto a rangiare no dai gannard guarda che passaggino ma che cazzo mi fotti il boss sasha il boss me lo fai anche pronunciare male il boss il boss il boss no il boss dai mo fa no arrivo io fa la pappa ma ha tagliato la strada dai cibo no mi hanno inculato me ne ho tirato in porta però mi hanno inculato no ma no cosa che c'era gannard vabbè ma stavo per spararla no si sicuramente la palla era tutta di qua tiri dall'altra parte stai spararla sicuro che cos'era quello gannard niente io fai passo così a cazzo facci due sono basso che cos'era quello gannard un tiro di merda va bene eh non tiro alla sasha per caso da che cazzo mi spingi e mi riportate su twitch corticemente grazie no tu sei diventato amico suo figlio molto no vaffangulo no no vedi che non sono l'unico ah perché io scusa io cosa ho fatto di male ah se ti mando a far culo dire che fai una cappella ma dimmi cosa ha fatto di male gunner lo ha immanizzato di brutto lo so ma che ci posso fare ci puoi fare io lo so che ci puoi fare un bel alto f4 passa la paura assist me la volo e ti ce ne frega il tuo assist mezza no eh vado io vati vati non ce la fai forte di brutto vai gunner ma vaffanculo sasha che cazzo è saltato stavo andando io contro la palla guarda guarda io sto andando contro la palla guarda tu arrivi ti metti nel mezzo mi rompi i coglioni io ti tocco ti vengo a sbattere la palla va dentro ma che cazzo mi sta attaccata al culo vabbè questo ci trollo che trollo stai scherzando no tu stai trollato l'altro gunner che si puta per ridere silenzio è lì è lì guarda guarda l'ho portata lui l'ho portata lui l'ho portata lui l'ho portata lui ma che cazzo si vuole fare così ma tu mi devi spiegare guarda guarda non ha fatto lo sfalto ma almeno non so salta verso sinistra spingi la palla no l'ho portata te l'ho accompagnata ma dai ma neanche il primo ma guarda guarda neanche il primo tocco ma com'è che io te lo giuro se ti portassero la palla davanti alla faccia la mancheresti anche tu se questo gioco è sicuro ah mi piacerebbe sapere come cazzo fai a giocare a pipa piccola e beh poi cosa faccio dai guarda se non riesci a vedere una palla così enorme i guardi quelli su pipa vedete che su pipa gioco col controller e qua gioco con la tastiera gioca col controller anche qui ti ho detto no 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 non stai per fare niente mi parola è cazzata no no ma questo ci trolla sicuro vabbè adesso però col controller ma non vi assicuro niente ragazzi dovevo scoprire i tasti aspetta un'altra serie di sconfitte capito ti ha già fatto la minaccia capito no ma l'ho detto così non ve l'ha pigliata ma che rosso non so se non devi vedere adesso dai faccio l'uomo ma non la fare proprio non la fare proprio anzi se esce adesso così prendi quelli 5 minuti di banalità per fare questo regalo no proprio lì sei fermato ma lo vedi che fa ma lo vedi che come ti muovi bestina merda vorrei portare portare portone No No, ci credo Infatti non devi Speriamo che sia il limite di una lunga serie Eh, speriamo che non è Non sarà un limite di lunga serie Così, ve lo vedo il cazzo Speriamo che Speriamo che Speriamo che Speriamo la Speriamo la Fai non faccio io qualcosa è un D3, sei saluto dico pino Grazie. Grazie. Scusa. Merda, non c'era nessuno. No, troppo non da. Guarda lì. Arca traia. Grazie. Nooo, non ci siamo coordinati Ma nooo, quella entrava eh Gannar Gannar, quella entrava? Peccato, peccato No, non ce l'abbiamo toccata male però Sì, invece Tutto male Pronto, due cazzi Ma poi ragazzi È stato un piacere me ne vado Aaaaaah Ecco così Amore 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 Grazie a tutti.